C'è un mondiale dietro l'angolo e di conseguenza c'è sempre Paola Piazzolla. Anche questa volta risponde presente ad una rassegna ridata ancora una volta la terza degli ultimi due mesi la campionessa barlettana iscritta ai campionati mondiali senior di canottaggio. In programma a Plovdiv in Bulgaria da domani sino a domenica 16 settembre. La 21enne atleta delle Fiamme Rosse sarà in gara nel 4 di coppia pesi leggeri femminile insieme a Giulia Miniemi, Allegra, Franca Lacci ed Arianna Noseda. È l'identico quartetto che ha vinto poco più di un mese fa a Poznan in Polonia il titolo mondiale nella stessa specialità a livello under 23, il terzo consecutivo per la nazionale azzurra e per Paola Piazzolla. L'atleta, cresciuta agonisticamente con la Lega Navale Italiana a sezione di barletta che durante l'estate ha partecipato a Shanghai e in Cina anche ai mondiali universitari, è chiamata a difendere il titolo iridato assoluto conquistato lo scorso anno a Sarasota negli Stati Uniti insieme ad Assia Marregotto Federica Cesarini e Giovanna Schettino. A Plovdiv dunque sarà l'unica atleta confermata di quel quattro di coppia pesi leggeri femminile che seppe portare l'Italia sul gradino più alto del podio nella trasferta a stelle strisce. Ripetersi alla luce del confronto con il gota del panorama internazionale non sarà affatto semplice ma le azzurre hanno tutte le carte in regola per puntare almeno ad un piazzamento sul podio. Il mondiale, dicevamo, scatterà domani. Piazzolla e le sue compagne di nazionale invece scenderanno in acqua lunedì alle ore 10.27 in Italia, un'ora in meno rispetto alla Bulgaria. Ci sono le batterie mercoledì, poi in scaletta i ripescaggi alle ore 10.10. La finale è programmata per venerdì alle ore 11.44. Paola Piazzolla c'è dunque e a Plovdiv vuole essere ancora protagonista.